Antonio si riparte dopo la beffa di domenica scorsa, innanzitutto qual è il morale della squadra dopo un minuto che vi ha portato da zero a meno quattro punti dalla pergolettese? L'umore di chi comunque deve mettere più rabbia dopo quello che è successo nell'ultimo minuto perché come abbiamo visto non basta e dobbiamo continuare a lavorare e pensare prima di tutto a noi stessi e poi dopo sperare che dagli altri campi arrivi a qualche notizia positiva. Dal tuo punto di vista la partita di domenica è stata buona per la prestazione, qualche errore sottoporta, è arrivato comunque un bel gol, come ti sei sentito in campo? In campo sto meglio fisicamente, la domenica precedente avevo avuto un attacco di allergia che mi aveva un po' debilitato, adesso sto discretamente meglio. Sottoporta devo cercare di migliorare un po', essere un po' più cinico, però è arrivato anche il gol che mi ha permesso di sbloccarmi un po' mentalmente e speriamo che ce ne siano altri nelle prossime gare. Il rapporto e anche il feeling tattico con il nuovo allenatore? Il mister chiede di dare tutto, di spendere tutto quello che abbiamo, che sia mezz'ora, 60 minuti o 90 minuti. Io cerco sempre di impegnarmi al massimo, mettermi a disposizione per qualsiasi ruolo che il mister voglia utilizzare per me e questo è il mio modo di cercare di ripagare la fiducia che il mister mi sta dando. Antonio, sulla carta il calendario vostro è un po' più complicato di quello della pergolettese, questo vi preoccupa? Preoccupa relativamente perché tanto noi abbiamo dimostrato che con le squadre più impegnative abbiamo portato a casa i tre punti, con quelle che sulla carta potevano essere più abbordabili abbiamo verso dei punti. Quindi non dobbiamo stare a guardare contro chi, ma dobbiamo solamente fare quello che è il nostro punto di vista, cioè quello che ci chiede l'allenatore per portare a casa i tre punti. Poi dopo si vede partita dopo partita. Antonio, quattro gol fuori casa, nell'ultima col Mezzolarti sei guadagnato un rigore sotto la Montagnani. È arrivata l'ora anche di segnare il gol al Braglia? Sì, è una cosa che mi farebbe piacere che succedesse già da domenica. Mi manca un pochino il fatto di non aver segnato ancora qui al Braglia e spero che la cosa succeda più presto. Bene.